Eder. Mech. Pallister. Dopo un'indagine lampo, i carabinieri della compagnia di mercato San Severino, supportati dal personale del nucleo investigativo di Salerno, hanno arrestato GP, ritenuto responsabile di porto illecito di arma da sparo e dell'omicidio aggravato dalla premeditazione di MH, il cittadino di origine marocchina ucciso con un colpo di pistola alla testa il cui cadavere era stato rinvenuto mercoledì pomeriggio scorso, nei pressi dell'eremo di Santa Maria a Castello. a Castel San Giorgio. Le indagini dei carabinieri erano state avviate a seguito della denuncia di allontanamento presentata il 30 gennaio dalla moglie della vittima. L'indagato è stato individuato mediante l'attività di sopralluogo sulla scena del crimine. o Edelmetalliser